Benvenuti a tutti sul nostro canale e se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a premere subito il tasto per iscrivervi e a lasciare un mi piace al video per dimostrare il vostro supporto. L'attivazione delle notifiche vi terrà sempre aggiornati sulle ultime notizie che stiamo per condividere con voi, notizie che sicuramente non vorrete perdervi. Oggi abbiamo una storia che ha catturato l'attenzione non solo dei tabloid ma di tutto il mondo, e sono qui per raccontarvela in dettaglio. Nel cuore del Regno Unito, una vicenda sta tenendo con il fiato sospeso l'intera nazione, e oltre. Si tratta di una situazione che riguarda niente meno che la famiglia reale, un pilastro della società britannica da secoli. In particolare, ci concentreremo sul principe William e sulla principessa Kate, una coppia che ha sempre incarnato un'immagine di stabilità e amore agli occhi del pubblico. Eppure, dietro le quinte, sembra che le cose stiano prendendo una piega del tutto inaspettata. Recentemente, i media hanno iniziato a sollevare dubbi sulla solidità del loro matrimonio, alimentati da una serie di eventi e segnali che, messi insieme, disegnano un quadro preoccupante. Uno degli elementi scatenanti di questa speculazione è stata la pubblicazione di una foto dei duchi di Cambridge, che sembrava essere stata sottoposta al ritocco con Photoshop. Questo dettaglio, apparentemente minore, ha acceso i riflettori su di loro, portando alla luce questioni ben più gravi. Diversi quotidiani, tra cui il libero e il prestigioso Daily Mail, hanno riferito di rumori che si fanno sempre più insistenti riguardo a una crisi coniugale tra William e Kate. Queste voci parlano di una tensione crescente, tanto da far ipotizzare che possa essere imminente un divorzio. Sì, avete capito bene, si parla di una separazione tra l'erede al trono britannico e la sua consorte, un evento che, se confermato, sarebbe di proporzioni storiche. Le ragioni dietro queste supposizioni sono molteplici e complesse. Gli addetti ai lavori e gli osservatori reali suggeriscono che, dietro la facciata di perfezione, la coppia stia attraversando una gravissima crisi coniugale. Questa situazione non solo metterebbe sotto pressione i due diretti interessati, ma avrebbe ripercussioni sull'intera monarchia britannica, già percepita come fragile dopo la scomparsa della regina Elisabetta II. I media di tutto il mondo, compreso il New York Times, hanno rivolto la loro attenzione a questa vicenda, sollevando interrogativi su cosa stia realmente accadendo all'interno di Buckingham Palace. La stampa internazionale, infatti, sta conducendo una vera e propria campagna per cercare di ottenere più informazioni, segno che l'interesse per questa crisi va ben oltre i confini del Regno Unito. Ma cosa ne pensate voi di questa incredibile notizia? La situazione tra il principe William e la principessa Kate vi sorprende? Credete che ci sia del vero dietro queste voci, o si tratta solo di speculazioni mediatiche? La vostra opinione è preziosa, quindi vi invitiamo a condividere i vostri pensieri scrivendo un commento qui sotto. E ricordate, per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Grazie per aver seguito il video fino alla fine. A presto!